Buio pesto in casa vastese con un punto in tre gare, una squadra senza gioco, idee e identità e la panchina del tecnico Ottavio Palladini, già fortemente in bilico in vista del derby di domenica prossima all'Aragona con il Francavilla. Dopo la sconfitta all'esordio a Matelica ed il pari casalingo con la San Maurese, questo pomeriggio Fiore e compagni sono usciti sconfitti dal campo della capolista San Giustese con un netto 3-0 al termine di 90 minuti ancora deludenti. Ma a preoccupare non sono tanto i numeri, seppur negativi, della squadra quanto la condizione generale dell'undici aragonese, apparso anche oggi quasi irriconoscibile. Rispetto alla gara di domenica scorsa, Palladini manda in campo dall'inizio Stivaletta, Giampaolo e Viscardi, per il resto la formazione è la stessa di quattro giorni fa. Il modulo è sempre quello del 4-3-3, fra i marchigiani, riflettori puntati sull'ex Pineto, Pezzotti. Mister Senigallesi si affida al 4-2-3-1. Sole al Villa San Filippo, dove ad assistere a San Giustese e Vastese ci sono 400 spettatori con una trentina di sostenitori abruzzesi. Partenza equilibrata con una buona opportunità al decimo per i locali con la ringe che in area, dopo un contrasto favorevole, conclude da posizione angolata con Morelli che para. Al dodicesimo Stivaletta risponde per gli ospiti con una conclusione dalla distanza centrale che non impegna il portiere di casa. Al ventesimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pallas Cognamiglio che in area tira centralmente. Al ventunesimo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Il portiere Morelli entra in contatto con Chedira in area Vastese, con il giocatore marchigiano che termina a terra e con il fischietto degli Carpini di Sernia che indica il dischetto. Dagli 11 metri Marco Pezzotti con un tiro angolato non sbaglia, supera Morelli per l'1-0 di casa. Per la terza volta in stagione inizio in salita per i biancorossi che stentano a reagire palesando i soliti problemi di gioco. Gli abruzzesi hanno soprattutto problemi ad arrivare negli ultimi 18 metri e concludere in porta riuscendo solo in qualche occasione e dalla distanza a calciare il pallone verso l'estremo di casa come al trentasettesimo con un tiro a lato di poco di Giampaolo. Al quarantatresimo però arriva il raddoppio dei padroni di casa con Chedira che supera i difensori aragonesi come Birilli prima di entrare ancora in contatto in area con il portiere Morelli. Come al ventiduesimo Delli Carpini indica il dischetto con lo stesso Chedira che realizza il gol del raddoppio per la vastese Buio Pesto con il ritorno in campo delle due squadre nella ripresa sul 2-0 locale e con Napolano al posto di Stivaletta fra i biancorossi ospiti. La squadra di Palladini inizia in attacco la ripresa con una buona opportunità per Fiore al quarto con Chiodini che però salva. All'undicesimo si infortuna nuovamente Viscardi che viene sostituito dai Arocci con Palladini che manda in campo anche Ridolfi per Pagliari. Al diciassettesimo nuova fiammata ospite con Fiore ma Chiodini è attento e para. Preme più con la forza dei nervi che altro la squadra ragonese con il tecnico abruzzese che al ventisettesimo sostituisce anche Fiore con Sciba mentre il match si avvia all'ultimo quarto d'ora con la vastese che resta anche in dieci alla mezz'ora per la seconda ammunizione dunque il rosso per D'Alessandro. In inferiorità numerica per gli ospiti si fa ancora più dura anche perché Chiodini in giornate al trentaquattresimo dice no anche a Napolano su punizione. Poi le ultime fasi di gara e al quarantanovesimo il tris locale con la rete di Camillucci su punizione e al novantunesimo squadra biancorossa sotto il settore dei propri tifosi. Domenica prossima all'Aragona con il Francavilla non si potrà sbagliare. Paladini un punto in tre partite quanto c'è da essere preoccupati dopo il 3 a 0 di oggi con la San Giustese? Ma più che preoccupati bisogna ritrovare subito il bandolo della matassa perché alla minima disattenzione prendiamo gol e poi diventa tutto più difficile. Abbiamo preso due rigori evitabilissimi, due palle perse da parte nostra evitabilissime e quando prendi due rigori così poi diventa tutto più difficile. Noi poi siamo rimasti anche in 10 e nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non riusciamo a concludere in porta al di là della mole di gioco che uno fa perché poi anche nel secondo tempo siamo stati costantemente nella metà campo della San Giustese ma non siamo riusciti a renderci più agricolosi quindi questa responsabilità è la mia. Dobbiamo lavorare tanto limare gli errori che facciamo perché ogni minimo errore purtroppo veniamo puniti e dopo diventa tutto più difficile. Quindi sta a me adesso cercare di lavorare bene perché così non possiamo andare avanti. Anche oggi però la squadra a nostro avviso ha faticato a proporre gioco? Sì sì, più che ha faticato a proporre gioco secondo me fatichiamo a tirare in porta a volte perché poi ripeto nel secondo tempo siamo stati costantemente nella metà campo della San Giustese e non abbiamo creato pericoli reali al loro portiere quindi qualcosa non va. Questa è la responsabilità, la mia e quindi mi assumo tutte le responsabilità però dobbiamo uscire fuori assolutamente da questa situazione. Panchina di Palladini dopo tre giornate che già un po' traballa. C'è stato anche qualche messaggio durante la nostra trasmissione oggi dei tifosi che non sono giustamente soddisfatti del rendimento della squadra. Non so se hai avuto modo di parlare col presidente Bolami dopo la partita. Ne parlerò sicuramente, poi questo è il calcio logicamente quando non vengono risultati l'allenatore è in discussione, è giusto che sia così, poi la società deciderà quello che vuole fare. Io devo lavorare e devo cercare di tirare fuori il massimo da questi ragazzi perché secondo me hanno delle qualità ma in questo momento non riusciamo ad esprimerle. Domenica c'è questo derby col Francavilla, una gara già fondamentale per il campionato della vastessa. Sì, più bene il campionato per noi per cercare di iniziare subito a rifare i punti perché dobbiamo farli assolutamente e quindi dobbiamo prepararci bene. Poi ripeto, il campo purtroppo in questo momento dice che noi siamo in difficoltà e dobbiamo rimboccarci tutte le manniche e io per primo. Senigallese, allora, San Giustese a punteggio pieno in testa la classifica. Oggi tre gol al vastese, tre gol su calci da fermo, però il successo è stato meritato per la sua squadra. Questo non lo so e non è neanche la cosa che onestamente mi pongo come concetto d'analisi. La cosa più importante va sottolineata in assoluto. È la prima cosa, la capacità dei giocatori in pochissimi giorni di ritrovare energie mentali e di fare la partita che avevamo pensato di fare. Dico pensato perché non abbiamo onestamente avuto il tempo di prepararla come magari facciamo in altre occasioni. Volevamo fare possesso nel primo tempo e far allungare gli avversari, non volevamo farli correre quindi abbiamo rischiato all'inizio di fare possesso nella nostra metà campo ed era davvero rischioso. Ma io ho giocatori con un coraggio e con una personalità eccellente e ci siamo riusciti. Il primo tempo abbiamo fatto davvero qualcosa di straordinario a mio parere. Grazie.